Grazie Presidente. Continuiamo a votare la serie di delibere propedeutiche al bilancio 2018-2020. La proposta 112 in particolare è quella che con quasi fare affettuoso chiamiamo tariffone. Mi piace sottolineare che sulla proposta e quindi di conseguenza poi sull'elenco delle varie tariffe che riguardano i servizi a richiesta individuale, 14 categorie diverse di servizi, con particolare riferimento a quei servizi che riguardano la vita quotidiana delle famiglie, quindi asili nido, refezione, centri anziani, tutte quelle tariffe che effettivamente incidono molto sulla vita delle famiglie, soprattutto di quelle che hanno bambini o persone in stato di difficoltà, non abbiamo apportato alcun incremento e quindi le tariffe restano invariate non provocando un aumento dei costi per le famiglie. Per questo motivo il gruppo del Movimento 5 Stelle consegna all'Aula il voto favorevole anche su questa delibera propedeutica al bilancio di qui sopra. Grazie.